buongiorno a tutti prima prima giornata sulla neve dell'anno siamo a passorolle e adesso vediamo proviamo a fare il mulatz ma non so quanta neve c'è perché guardate che ne ha fatto proprio proprio un sacco 20 centimetri di neve fresca giornata spettacolare e andiamo verso baita segantini dura durissimo veramente una dura giornata oggi ecco lassù il mulatz mano non fattibile oggi almeno le ciaspole per non dire le pelli tutto a casa deciso per cristo pensante proviamo a salire da questo da quel vallone lì dove c'è la traccia del sentiero e poi scendiamo dal lato davanti io ribrutto marmolada pausetta ad ammirare il mulatz mentre saliamo da questo canale una delle tre salite possibili al cristo pensante ormai siamo in cima com'è lì la neve davide morbida giornata veramente bella e là dietro la nostra cima battuto traccia fino alla cima ed ecco davanti a noi il cristo pensante come sempre il panorama dal cristo pensante merita sempre